salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo con dei zii ci siamo lasciati che abbiamo trovato riparo in questa torretta da caccia e ci stiamo direggendo anche leggendo i vostri commenti verso il bunker che è situato da queste parti insomma siamo ancora un po lontani ma comunque la direzione è quella tra l'altro ci tengo a ringraziarvi intanto per tutti i consigli che mi lasciate che sono sicuramente utili anche per chi magari rivede i video e va a leggersi commenti quindi può trarne beneficio e ovviamente anche grazie a tutti i consigli che che mi date allora scendiamo intanto ho lasciato alcune cosette lasciato il binocolo lasciato la scorpio e così iniziamo insomma a toglierci un pochettino di di peso perché insomma alla fine dei conti ci stiamo portando veramente tanto tanto peso presso insomma ci appesantisce e basta insomma per quanto riguarda i corpi mi avete ovviamente anche detto di fare una sorta di insomma una cernità di quello che che ci servo o meno però per il momento non l'ha fatta perché se riusciamo a sopravvivere sicuramente troverò quell'arma che necessita di quei colpi che poi non non ho più quindi per il momento me li sono tenuti ho deciso insomma di abbandonare il binocolo anche perché ci abbiamo l'ottica quindi alle brutte potremmo utilizzare quella e la la scorpio perché comunque non abbiamo il momento recuperato nessun caricatore che possa servirci appunto per utilizzarla bene quindi l'ho abbandonata anche perché insomma perlomeno siamo abbastanza equipaggiati per il momento niente di che però insomma portarsela dietro e non poterla utilizzare solo solo peso insomma in più che ci portiamo appunto sulle spalle allora proseguiamo un attimo lungo questa strada perché se non ricordo male anche vedendo la la mappa su internet dovrebbe essere appunto questa strada che più avanti ci potrebbe portare a questo famoso bunker che mi avete detto insomma necessita di un oggetto particolare per essere aperto però se riusciamo ad arrivarci per me è giusto una curiosità per vedere effettivamente com'è la zona o se magari lo troviamo aperto perché qualcuno c'è già c'è già entrato ora di preciso non ricordo la strada sinceramente però mi ricordo che lungo quella principale poi c'era una biforcazione che portava appunto in una parte più secondaria insomma della della zona e da lì c'era una sorta di cava insomma di pietra e c'era l'entrata di questo bunker comunque approfittiamo neanche per ovviamente giron solare per prendere visioni anche di questa parte della della mappa perché mi avete detto anche che siamo abbastanza anche perché l'ho visto successivamente siamo abbastanza isolati verso la parte più esterna della della mappa e non è che qui ci siano molte persone che si concentrano maggiormente nel penso nelle grandi città un po più interne più centrali insomma rispetto a dove dove siamo noi il che non è che mi dispiace però so che voi volete vedere un po di scontri soprattutto le volte che muoio insomma quindi per il momento abbiate pazienza ma ci facciamo insomma questa scampagnatella nei nei boschi qui vediamo appunto se riusciamo a raggiungerlo sto bunker oppure se me so sbagliate sta andando da tutta altra parte non sto correndo per cercare di risparmiare un pochettino di risorse perché comunque abbiamo sì qualcosa da mangiare qualcosa da bere però voglio ovviamente tenermele quindi correre adesso inutilmente perché ci porterebbe via soltanto più calorie e più e ci farebbe venire più sede insomma adesso inutilmente poi magari faccio alcuni tagli un po come ho fatto anche nei precedenti episodi che prendo conto insomma che non è che sia molto entusiasmante quello che sta succedendo poi se ci prendiamo una pallottola in testa da qualcuno così a caso è quello è un altro è un altro discorso allora vediamo un attimo qua com'è la situazione perché mi sa che siamo arrivati a parte uno zombie qua c'è una tenda pensavo fosse la la diramazione che ricordavo sulla mappa ma no direi di no vabbè non vado a controllare niente insomma anche palle però tra l'altro come avete giustamente detto i zombie attaccano sempre due volte poi eh adesso siamo bravi riusciamo ad attaccare anche noi e quando cazzo mori oh ok oh kit pulizia di armi ottimo questa non è affatto male come stiamo messi noi a questo molto danneggiato aspettate un attimo che ci infrattiamo un pochettino ma se dovesse passare a qualcuno siamo siamo parati allora utilizziamolo su questa che sta veramente messo male l'avevate anche voi segnalato e siamo stati fortunati che l'unico zombie nel nulla aveva appunto quello che ci interessava mi sa che dovremmo riutilizzarlo infatti la fortuna che ci avevamo come era danneggiero ci esplodeva in faccia e morivamo così a caso sicuro sarebbe andata a finire così allora che è usurato ne approfittiamo per la posa per mangiarci pure qualcosina visto che il combattimento ci ha fatto un infame e poi proseguiamo lì c'è una strada che che sale però se non ricordo male il bivio che ci interessa dovrebbe essere sulla sulla destra quindi non vorrei sbagliarmi non vorrei prendere insomma una strada una strada errata quindi proseguiamo ancora lungo la la via qua asfaltata e poi vediamo com'è la situazione non so se c'è sarà un cartello scritto bunker e qui a destra però è ripeto sempre controllando la mappa attenzione devo un attimo qui magari troviamo una mappa invece una di quelle turistiche e c'è pure uno zoom più di uno zombietto non fate caso all'oscurità che che sopraggiunta dentro la mia stanza va è ancora nuvoloso quindi un po un casino regolare appunto la luminosità allora stai facendo il fuoco da campo non ci serve per il momento lì c'è uno zombietto lì c'è un altro e laggiù sembra esserci una torretta c'è una postazione quella militare di sorveglianza quindi me fa pensare che non siamo poi così lontani andiamo un attimo da quella parte ora non so se ambito sto posto però col fatto che mi avete detto che necessita di sta chiave dorata quindi mi viene da pensare che non sia poi così molto semplice trovarla poi magari ce l'aveva addosso uno di quei zombie là e noi non li abbiamo uccisi però mi avete anche detto che serve comunque un equipaggiamento come si deve per per poterci entrare ok ho sistemato un po la luminosità sperando di non aver esagerato allora qui roba militare c'è sta però quindi forse forse qui se non è qui comunque non andiamo a controllare come la zona ok questo aspetta aspetta che per un attimo visto dov'è ottiche rv non so se potrebbe essere ma non credo può essere montata su sul fucile che ci abbiamo noi che poi non ho mica capito che cosa ci va montata come ottica sul fucile qui che altro c'è scatola di colpi punto 45 questa che monta i 762 a parte che mi sa che ce l'abbiamo vabbè lasciamola qui non è che stiamo a fa sembra che stiamo a fa la la raccolta dei dei proiettili allora proseguiamo un attimino perché potrebbe essere l'entrata io ripeto non ricordo bene com'era la situazione però potrebbe essere interessante se all'inizio ci sta un cazzo è che sta un posto di sorveglianza in quel modo potrebbe essere quella ripeto non ricordo magari alla fine di qualcos'altro più lungo e sto solo a perdere tempo però aspettate e vabbiamo a vedere un attimo come è la situazione qui c'è uno zombie no perché qua la strada si dirama vorrei andare fuori fuori strada ecco magari aspetta qua c'è una casa abbastanza grande però aspettate eh allora approfittiamo un attimo per bere se bevemo sta pepsi cola qua così ok vediamo un po' com'è la situation qua ma sembra più un accampamento militare questo ok ragazzi allora riprendiamo che sono noto pure il corriere allora c'è questo accampamento militare che non sembra affatto male io non vorrei fosse questo proprio la zona del bunker e comunque qua sembra pure una cava di pietra vabbè andiamo dentro vediamo com'è la situazione più che altro non ci sono zombie in giro questo vorrebbe essere una cosa buona per noi perché questo vorrebbe dire che non ci sono altri player nelle vicinanze poi chi può dirlo c'è la fortuna che ci ritrovamo noi potrebbe pure esserci qualcuno allora intanto vediamo qua com'è la situazione allora qua non c'è niente o magari qualcuno c'è già entrato allora una borraccetta non sarebbe male c'è dell'acqua però bisogna svuotarla quindi comunque non è male già che ci sto magari la svuoto proprio adesso ok allora questa non è male perché se riusciamo eventualmente a riempire la borraccia di acqua potremmo usare la bottiglia per farci un oh vada per farci un silenziatore quindi vediamo un attimo allora qui abbiamo un po' di roba tra cui l'SG56 che è lo stesso nostro C4966 sì allora questo facciamo un attimo così lo no 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 aspetta no 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 che cazzo lo volevo scaricare ok perlomeno ci prendiamo i corpi a granata ok caricatore mag qualcosa qui questa che già ce l'abbiamo o è un altro questo no è un altro è un altro aur 30 questo è mag c30 va bene e la paletta questa era utile nel caso in cui volessimo piantare o fare altro insomma satterrare qualcosa eppure c'è un altro fuciletto però voglio controllare prima qua sembra se c'è niente qua pure non è male pure i corpi per terra allora questo non sarebbe male ci togliamo la carabina ripetizioni quindi questa no che cazzo ha fatto spero sia meglio quest'altro insomma penso che si calibro 12 ma perché c'è sti corpi attaccati ok ma no ok beh questo non è male più fuggire la pompa di quelli decisamente magari più moderni con la possibilità addirittura di metterci un'ottica sopra questo non sembra non sembra male allora proseguiamo l'esplorazione fate attenzione regà perché c'ho una paura deve chiammi qualcuno che giacca mimetica pensarebbe male 42 slot vabbè poi vediamo allora com'è la situazione qua vuota direi un'altra paletta non so se sto sempre io che faccio cacciare probabile c'è niente i soldi bagni davano sempre delle ah beh c'è un caricatore di soddisfazione insomma vai che cinque sto veramente a scorta di caricatori qua allora questi li mettiamo qua allora questi sono pallericate ok ok quello si è nato uno zombie oh che chiacchio era sembrava tipo una mitraglietta buh vediamo un attimo com'è la situazione qua a parte che mi sono chiuso dentro però vabbè però mi sa che è proprio qua la zona però dovevo capire dove è l'entrata ma lo dice uno zombie ah ecco laggiù dovrebbe essere quella l'entrata del del bunker sì direi di sì mi sembrava di aver sentito tipo una mitraglietta forse non lo so ho sognato molto probabile allora proviamo a ammazzare con i zombie magari c'è qualcosa di interessante ce l'avrà lui a chiave non lo so strano sto posto insomma vediamo se riusciamo a tiallo magari eh una sorpresa ma non credo infatti dai oh pure buggeato ottimo oh no che cazzo si è buggeato ok ottimo che c'hai cacchio di niente sono in berretta vabbè allora vediamo un attimino com'è sta situazione qua poi ce ne ce ne andiamo visto che insomma qualcosa l'abbiamo trovata ma niente di che poi eventualmente vediamo com'è la situazione in queste casse niente ovviamente questo non c'è niente sacco di esplosioni cose cazzo fai sta cosa mi ci fa manca interagire quindi vuol dire che serve a qualcosa a meno che questa non è l'uscita o l'entrata o forse appunto senza la chiave là che mi avrei detto la tessera d'oro insomma quella lì non non si può fare niente vabbè dai non è male perlomeno ci sono arrivato siamo vivi pensavo fosse ci fosse un po' di gente non lo so se è un luogo magari ambito ma quanto pare no o forse proprio con il fatto che è un po' difficile trovare effettivamente la chiave per entrare non non ci perdono manco tempo non lo so altro aspetta un altro contenuto non ci siamo entrati lo sto a vedere adesso perché l'abbiamo visto che da sull'altra era chiuso mentre a me ha tutti uguali so sti no forse è qualcosa che fa rumore sempre l'SG qualcosa ma ce l'abbiamo già quindi niente mi sarebbe piaciuto averci perlomeno un'ottica però va bene lo lasciamo pure carico che è tanto abbastanza se no se sa mai ah fermati sbaglio sempre testo e lo vado a ricaricare invece che scaricare ok via va bene allora ragazzi noi il giretto ce lo siamo fatto siamo arrivati qua però purtroppo non avendoci la chiave neanche possiamo farci molto l'abbiamo visto abbiamo visto tutto non c'era niente di che non abbiamo visto la zona quella lì la la parte lì all'entrata però spero che non ci fosse quello che effettivamente cercavamo allora visto che dovremmo essere ovviamente nella parte ancora più a sinistra vedendo la mappa della zona quello che possiamo fare è quella che dovremmo tornare indietro ora praticamente bisognerà tornare indietro qui c'è pure un altro camion vabbè ce ne torniamo dalla parte della strada asfaltata e e torniamo indietro c'è poco da fa se siamo arrivati ai margini della della mappa o poco ci manca insomma non è che possiamo ancora continuare anche perché come mi avete detto diciamo la parte più emozionante è più verso altre città quindi direi che possiamo benissimo ritornare vabbè sto contento che ci siamo arrivati perlomeno una piccola soddisfazione ce la siamo me la so tolta insomma ce la siamo tolta non possiamo vedere com'è l'interno perché non abbiamo la possibilità di visionarlo allora noi ce la andiamo magari da sta parte a sto giro questa è la la torretta da cacciatore dell'inizio del video e mi sa che ci ci rilasciamo proprio qua ragazzi perché appunto siamo ancora un po' lontani e non vorrei far troppo lungo il video quindi riportiamoci qua sopra poi vediamo perché se c'è la roba si c'è la roba che ho lasciato appunto c'è la roba che io ho lasciato ho lasciato pure il mirino insomma quindi ho lasciato qualcosa con un po' di caricatori cioè di proiettili che avevo doppio perché c'è la scatola insomma quindi qualcosina dovrei lasciare magari ugualmente qualcosa qua e e vedere insomma se no come mi avete detto anche voi fare eventualmente una cassa per metterci dentro ma insomma tanto alla fine va a stare ricordando sta cassa quindi va bene pure così allora ragazzi direi che ci possiamo anche salutare qui dove siamo partiti siamo ritornati però il viaggetto al bunker se lo siamo fatto quindi comunque qualcosina l'abbiamo vista di nuovo abbiamo recuperato delle armi un pochettino migliori quindi insomma come ho detto prima non è stato proprio vanno come viaggio io come sempre vi ringrazio per la visione se vi va iscrivetevi al canale un pollicino in su se vi va e ci vediamo al prossimo video ciao ciao